Siete passati dall'epoca dei bilanci omerici ai complimenti e quanto ha detto ieri al presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, nella sua veste di commissario ad acta per la sanità calabrese, Francesco Massicci. Dal dirigente del Ministero dell'Economia ha preso il nome il tavolo interministeriale al quale sono periodicamente chiamate a confrontarsi le regioni italiane in regime di rientro dal deficit sanitario. Nel corso della riunione di ieri è stato ricordato che la Calabria, prima del 2010, era una regione che non presentava carte e documenti adeguati sulla sanità. Scopelliti ha anche incassato i complimenti per le performance della Regione nel risparmio sulla spesa farmaceutica e nella riduzione del personale con un totale di circa 2.600 unità in meno. Ma l'attesa era forte soprattutto per la presentazione al tavolo della bozza di programma operativo 2013-2015, documento che costituisce la prosecuzione burocratica del piano di rientro. Del documento si conoscono solo tre pagine diffuse anche nel corso dell'ultimo Consiglio regionale dedicato proprio alla sanità. In esse al capitolo obiettivi al punto 7 si legge che per disincentivare fenomeni di migrazione sanitaria la struttura commissariale pensa a una riprogrammazione della rete, con particolare attenzione a tre bisacce a prae a mare, riconvertiti in CAPT, che potrebbero essere riconsiderati quali ospedali di zona disagiata. Mentre al punto precedente viene posto come obiettivo l'individuazione della struttura di riferimento per le urgenze del territorio tra i due ospedali che attualmente costituiscono lo SPOC Paola Cetraro. La bozza è stata recepita dal tavolo massicce e sarà oggetto di confronto nelle prossime settimane perché vengano apportate le dovute migliorie. L'organismo interministeriale è inoltre invitato Scopellite a fare in modo che il Consiglio regionale non leggiferi su temi riguardanti la sanità su cui la regione non ha competenza, come è accaduto con la legge sui precari che è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri. Incassati i complimenti romani, nella stessa giornata di ieri il commissario della Sanità Calabrese ha dovuto però apprendere della richiesta del PD calabrese rivolta proprio ai componenti del tavolo massicci di destituirlo. In una lettera si sollecita la sostituzione, come previsto da legge, del commissario d'acta Scopelliti per aver applicato per due esercizi consecutivi l'aliquota IRPEF massima e, nel contempo, non aver adempiuto agli obblighi del piano di rientro.